Siamo una grande famiglia alla fine, quindi mangiamo insieme e facciamo una vita molto di comunità. Io consiglierei assolutamente ad amici e altri colleghi imprenditori di provare l'esperienza Utopicus perché alla fine è comunque un passo importante per accelerare e ampliare le proprie conoscenze. Una famiglia molto divertente, internazionale, che è capace di stimolare anche nei momenti più difficili, con un sorriso o un caffè si riesce ad andare avanti e a fare delle cose interessanti.